buongiorno family scusatemi per le condizioni per il caos qui dietro ma sono tutti capi che ho tolto ieri sera da fuori li volevo sistemare stamattina vi ho detto voglio un attimo dedicarmi alle pulizie e poi dopo mi dedico ai capi comunque pulento pulento sto pensando di portare oggi pomeriggio a mio marito con una scusa da meteo la scusa è la classica perché si hanno messo qualche telecamera nuova si hanno messo qualche tre bietti nuovo con questa scusa qui perché dovete sapere che so per santo di fare un calino a mio marito per natale a mio marito ci piace tanto la macchina credo che si chiama sempre macchina espresso correcetemi se sbaglio perché non lo so credo che si chiama macchina espresso quella la che fa a macinare i chicchi di caffè credo che si chiama macchina espressa non lo so a me non piace tanto quella macchina di caffè perché devi trovare la giusta la giusta macinazione del caffè ma poi non mi ha mai colpito però a lui mi piace quella la è sicuramente sarò pensato di regalarcela per natale perché comunque quelle macchine la hanno un costo ci sono di vari modelli di fare marche ma hanno un costo un pochino elevato a differenza della frock che con 100 euro te la compi perché la mettono molto molto spesso la frock in offerta a 100 a 99 o 99 oppure capita a volte che la mettono a 80 euro per cui la frock diciamo che più accessibile come presso mentre quella che piace al mio marito costa dalle 350 a salire di solito io l'ho vista sempre sulle 500 euro quelle che macinano il caffè a me non mi attira non mi ha mai colpito quella perché dico devi trovare la giusta macinazione devi fare prove su prove per trovare la giusta macinazione del caffè però a mio marito mi piace gli ha colpito un 2 e 3 montelli e oggi con la scusa che volete si hanno messo qualche fotocamera qualche teppi di nuovo anche per te avvicolette disco palmi perché domenica pomeriggio per mia colpa siamo stati a casa tutti pomeriggio per mia colpa chi mi segue lo sa che io nel periodo estivo inizio a soffrire di pressione bassa domenica la mia pressione ha fatto capricci non riuscivo alzare agli impietti mi mettevo su tirano distesa in 48 ore a 20 minuti mi passava e ci la metto di testa come mi passavo 10 minuti al periodo mi tornava mi tornava di nuovo per cui per mia colpa siamo stati tutta la giornata a casa domenica perché io ero proprio k o per cui oggi per farmi per tornare tra piccolette andiamo alla meteo e ci faccio vedere un pochino le macchine molto che capisco lui quale certi per dire di più ripeti codice e controllo sull'app della meteo perché ve l'ho sempre detto che sull'app della meteo trovate tantissime offerte se un oggetto nel corso della meteo costa 300 euro voi sull'app per esempio lo potete trovare a 250 più un altro terrore sconto per esempio che molte volte mettono l'offerta lo potete trovare a 200 euro per cui voi andate risparmiare 100 euro c'è la disponibilità di fare il ritiro e il pagamento in negozio se l'oggetto non supera una determinata somma scusate una determinata somma per cui lo certiamo voi venite con me gli faccio pochino spicciare e poi mi faccio i miei calcoli ovviamente devo fare anche le mie riflessioni perché comunque la froc si che ce l'ho da due anni tre anni da quattro ce l'ho però è sempre super funzionante per cui mi devo fare le mie riflessioni i nostri conti e vedo un po' detto ciò io continuo perché sono in fase lavaggio i palmenti devo lavare l'ultima passata diciamo nell'ingresso e lavare i palmenti della cucina e tutto ciò sono le 10 e bettotto il tempo fa pena forse il coeraccio continuiamo a dopo i palmenti della cucina good bye e eccoci family ciao family lui che fa il passeggero eh sì da quando abbiamo la macchina lui fa la vita comoda fa il passeggero come cavolo si dice il passeggero mentre io faccio l'autista in continuazione comunque lui quando mi sono fermata vicino alle macchinette del caffè poi non me l'ha aspettato e lui ha detto che ha fatto una domanda specifica perché mi sono fermato qua? allora c'è il fatto che noi quando andiamo alla meteo io vicino alla macchina di caffè sempre diritto cammino diritto non mi mai fermo soffermo più di tanto cammino diritto ma oggi che mi sono fermata ho detto vicino a lui perché mi sono fermata? eh abbiamo scoperto il perché che se tutto va bene per Natale la prenderemo come vi ho detto prima come vi ho detto prima per Natale ce la voglio regalare perché comunque vi ho detto come mai sa cosa uno quando io voglio qualcosa mi accontenta sempre anche se a me anche se a me non mi affaccina più di tanto una mi compisce un pochino è quello che prenderei ma non più di tanto però visto che lui mi accontenta sempre stavolta tocca a me accontentare lui e facci questo regalo regalino regalino regalone regalone però se lo merita per cui ce la voglio fare ma abbiamo preso il nome della macchinetta e ora ci aggiorniamo un po' e vedremo quanto arriverà a casa youtube e quattro le mille mille le eccezioni che ci sono i mille video di youtube che l'hanno preso e tutto quanto e vediamo comunque a 90 95% è quello che avete visto ma non ti sa sicuro se la troveremo se la troviamo se la troviamo quel colore che abbiamo visto là non ci pensare proprio quella beige ma nella mia cucina non ci sa bene o bianco o nero a te quello che stavi in esposizione di questi colori mi piace no il colore il motello ah il motello il motello sarà quello il colore no il colore beige no perché nella nostra cucina non ci sa bene o bianco o nero ci vuole per cui abbiamo preso il nome appena torniamo a casa ci guardiamo le recessioni su youtube e controllerò anche dall'app meteo per vedere il presso che un confronto diciamo dei presi che ce l'avrò qua e se ce l'ha sull'app quanto costa e poi andiamo a vedere ecco lo spoiler anche sul sito tela telonchi che è una telonchi sì per cui andiamo a vedere anche sul sito tela telonchi se ce l'ha e quanto costa perché qui ci stava l'offerta no qua secondo me la telonchi l'ho ammesso che tra primo dicembre 7 a me la primo gennaio sì vabbè domani tra primo giugno giugno a 30 giugno se acquistare la macchinetta avevi 100 euro e ti rimposto sì di cashback poi non ho capito come funziona sì 100 euro di cashback sarebbe rimposto sì se dovevo dire ma hai rimposto sul sito poi se potevi comprare questi 100 euro dopo di spendere comunque 100 euro però vedremo quando è il momento che è offerta che adesso se ne palla per Natale per cui intanto in questi 6 mesi vedremo un po' perché ragazze il 2024 stiamo volando è iniziato è iniziato da poco da poco già siamo a giugno con la precisione metà giugno siamo già a metà giugno dopo siamo a luglio sono quasi passati 6 mesi così così a poco minchia comunque ora andiamo a fare un pochino di spesa latte acqua e qualcosa per mangiare e poi c'è giugno andiamo a casa e iniziamo le nostre il check della macchinetta di caffè e per chi se lo chiedesse chiedesse? no chi se lo stesse chiedendo ma la froc la froc la froc no la froc è un'altra cosa la froc è la casa attraggio in cantina ma da casa non si muove no la froc non si muove la froc da casa non si muove attraggio nel ripostiglio in cantina in cantina ma la froc non si muove non si tocca non si tocca e non si tocca è chiaro? ma è normale o entriamo a dopo siamo tornati a casa mio marito sta sistemando l'acqua e ha comprato una bottiglia in frigo perché fa caldo anche se questo tempo le porci mi segno 25 crati ma il tempo non è che fosse wow com'è il tempo? è come diciamo noi abbufagnate molto molto alto no proprio o piove per lo meno se invece si è sconvolto così e mi si rio perché va più caldo di quanto ci sai il sole o no? si così si comunque abbiamo fatto la spesa mio marito ha cambiato per presi novellini che fai colazione ho preso la passata poi aspettate che vi appoggio sulla passata ok scatoletta per le mie figlie che ci hai venuto qua uova uova zucchero perché mio marito lo usa ma non lo sa quanto finisce perché questo qua classico lo usa esclusivamente lui per il latte e per il caffè farina la mia amata nuvola il lievito perché ci devo fare il pane al mio marito ma ce lo faccio domani pomeriggio con calma latte per lui latte per me ho preso questo qua stessa all'attosso perché mi faccio cappuccino qualche volta anche cappuccino freddo e la finita il monto e per stasera pittelle fialche e morsella in carossa ogni tanto facciamo qualche scarretto questo è tutto quello che abbiamo comprato ogni tanto si fa qualche scarretto la teta ci sta ogni tanto e nulla ora si siamo questa questa siamo ora spesuccia e ci mettiamo in opera vicino alla televisione per vedere le eccezioni siamo ho visto anche al supermercato per il caffè tu oggi devi qui nello succo e notte devo pensare anche per il regalo per il mese prossimo questo bambino faccio 45 46 questo bambino qua bello bello lo vedete quanto è bello il bambino il mese prossimo compie 46 anni fatto reggio questo bambino qui c'è un bambino o bambini mamma per cui devo pensare cosa ci devo regalare a questo bambino ho visto ciò cosa regalare però devo mettere un pochino meglio a questo bambino questo bambino bello vabbè detto ciò la casse io vi saluto perché adesso ci rilassiamo io mi bevo completamente comoda anche io vado subito al vestito perché fa un caldo fazzino completamente comoda e ci portiamo le eccezioni su youtube alla prossima ciao un make up bacio e preparate devi fateci sapere cosa ne pensate se qualcuno c'era come si trova con quella che aspetta allora se qualcuno ha la macchinetta quella là che macina i caffè che che tu seppi spesso si chiama poi non lo so si sembra spesso sotto nei commenti ci scrivete se ce l'avete come vi trovate quale marca quale manca e quale caffè avete provato e quale vi trovate bene ogni tempo dobbiamo immagazzinare comunque preparatevi preparatevi per ciò vetti perché ciò vetti venite con me ah sì con noi perché lui ciò vetti lavora la mattina e la sera andiamo a vedere l'introduzione se l'ho detto prendete non so santo per te o i parole povere lo tolano con notare la nicchia e lo mettono sulla tar perché poi ci mancheranno 13 giorni per la festa e poi un'altra volta ci metteranno ma purtroppo non ci posso tar perché tu sei oro e vabbè mi vado a vedere questa qua l'anno scorso perché tutte tutte e tre i quattro diciamo la cessione e i vestiti tutte e tre per campo per cui quest'anno noi possiamo vedere quanto mettono i mattelli perché lui sa lavoro beh io ci potrei anche a stare sì però sapendo che ci sarà un tankri e il messo a paese ci sarà un traffico infinito ho paura che poi ci vada non riesco a tarapeta lui per le 21 quel giorno comunque vi mando un bacione ci vediamo il giovedì preparatevi preparatevi ciao 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 Grazie.